ciao a tutti ragazzi oggi voglio ringraziare l'azienda bike.ly per questo fantastico set per poter fare le unghie comodamente da casa è incredibile ma è davvero stupendo perché c'è tutto l'occorrente che serve per poter realizzare le unghie a casa allora adesso vi faccio vedere nel dettaglio allora innanzitutto abbiamo qui la base è il top coat finale poi qui abbiamo due lime dritte e due curve poi qui abbiamo sei smalti semi permanente e iniziamo col colore 001 per il colore bianco poi abbiamo lo 002 per il colore nero poi abbiamo lo 028 per il color fango poi abbiamo lo 061 per il color rosso così qua è spettacolare poi abbiamo il colore 600 il colore rosa e infine il colore 003 per il color ciclamino davvero bellissimi come colori poi qui abbiamo la lampada con 54 watt e in più hanno 18 led con la presa usb e qui possiamo mettere anche il timer di 30 60 e 90 secondi quindi davvero fantastico poi qui abbiamo un gel per rimuovere appunto lo smalto e questo per togliere la parte del gel che risulta appiccicosa quindi quella finale che infatti ci sono in dotazione le salviettine e poi infine questi altri due mattoncini che sono le lime con tutti gli step davvero fantastico e quindi qui abbiamo tutto il kit per poter realizzare lo smalto a livello professionale direttamente da casa grazie by cli per questo fantastico set e vi lascio il link qui sotto per poterlo acquistare direttamente su amazon grazie ancora